segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te vado però dal presidente dell'osservatorio sul debito con banche finanziarie perché c'era già tutto il capitolo del caro energia in generale questo quanto aggrava la situazione delle famiglie aggrava in maniera notevole anche perché dobbiamo considerare che già sotto l'aspetto del caro bollette abbiamo 4,7 milioni di persone che non sono stati in grado di pagare almeno una bolletta quasi 5 milioni il rischio è che altri 3,3 milioni non siano in grado di pagare in futuro le bollette il problema vero ruota attorno al concetto di povertà assoluta che negli ultimi 15 anni in italia è più che triplicata attualmente parliamo di circa 5,6 milioni di persone che si trovano in questa condizione veramente estremamente critica circa 2 milioni di nuclei familiari e la maggior parte di coloro i quali versano in questa condizione si trovano nel 44 per cento nel sud italia e fanno parte di famiglie monoreddito che vivono principalmente grazie a sussidi o pensioni in particolar modo il 30 per cento quindi quella è la fetta la parte più debole della popolazione che a causa di questi rincari prima delle bollette adesso della benzina sicuramente hanno maggiori difficoltà per poter andare avanti anche a mettere proprio il piatto a tavola in questo diciamo contesto ovviamente bisogna individuare anche quali sono i dati diciamo essenziali per lo sostenere le spese in riferimento soprattutto alle entrate mensili le famiglie meno abbienti utilizzano il 76 per cento delle loro entrate quelle più ambienti il 56 che cosa succede che questi aumenti ad esempio tre anni fa era solito trovare diciamo un prezzo a kilowatt ora per quanto riguarda l'energia di 5 centesimi siamo passati nei momenti di apice anche al 60 centesimi quindi è più che decuplicato questo prezzo e questo va ad incidere ovviamente sulle scarse risorse delle famiglie italiane altro aspetto estremamente critico che non si deve dimenticare che noi veniamo da un periodo molto particolare quello della pandemia e poi successivamente la guerra con l'inflazione però il problema che si è venuto a verificare nella pandemia e che io ci tengo a sottolineare perché auspico comunque un intervento del governo anche in tal senso è che nella prima fase della pandemia ci sono avute tantissime difficoltà dal punto di vista lavorativo quindi c'è stata la cassa integrazione che non arrivava e questo ha comportato per tantissime persone l'impossibilità di onorare i propri debiti con le banche e le finanziarie non parlo tanto dei mutui e delle imprese perché il governo è intervenuto e ha fatto delle moratorie ma io parlo in particolar modo dei finanziamenti privati perché su questa tipologia di credito non è stato previsto alcun tipo di moratori è stata data libera facoltà alle finanziarie di decidere se accodare sospendere o meno le rate il problema si è venuto a verificare concludo con il fatto che molta gente non è riuscita a pagare rientrata nella lista dei cattivi pagatori quindi fondamentalmente oggi oltre a dover affrontare il problema del caro bollette della benzina si deve affrontare il problema di tutti i finanziamenti anche perché queste persone non possono essere rifinanziate che non possono accedere adesso ci torniamo questo che mi pare un aspetto ma